Sto per acquistare il bundle più strambo della storia di Fortnite, ovviamente col codice creatore di StepRing, se lo prendete anche voi mi raccomando attaccatemi su Instagram, ragazzi, un bel pollicione in su, commentate, schiacciate la campanellina, io vi auguro una buona visione. Bene ragazzi, questo è FN e bentornati con questo nuovissimo video di Fortnite sul mio canale, tra 6 giorni e 11 ore cambierà la stagione, ci sarà un evento, non lo so, presto uscirà sul canale il video insieme a voi nei server privati, ma prima quest'oggi giocheremole solo dopo aver acquistato questo bundle. Ma che cos'è questa roba? Guardate il deltaplano, che cosa? Compra subito, compra equipaggia, facciamole solo normali, che ne dite? Visto che l'ultima volta abbiamo fatto gli endgame e sono stati un po' particolari. Putnik ho appena speso 2000 V-Bucks per la skin nuova, sai cosa devi fare, vero? Ecco, se non trovo un lama è colpa tua. E ti ho detto che la quarantena mi sta facendo impazzire perché parlo con un lama, vabbè. Dove puoi iniziare il video di Stepney se non a Misty Meadows? L'autobus passa praticamente qua sopra, è perfetto per noi. Fa un freddo cane, mi sento completamente congelato, le mani, i piedi, le gambe, la testa. Non ci sono molte persone, giusto un paio, va bene. Cerchiamo di sopravvivere ragazzi, via. Con calma ragazzi, con calma. Adesso arrivo io, eh. Mi dispiace molto, sì. Prima gli scudini comunque, dopo il medikit, le bende. Vabbè, ciccio bello, è andata in questo modo, mi dispiace molto. Hai ucciso due persone, poi è arrivato Stepney con la sua skin nuova e ti ha polverizzato. Sono cose che capitano d'altronde. Comunque, in questi giorni sto giocando tantissimo a Call of Duty e sto giocando col pad. Quindi la sensazione poi di riprendere nuovamente il gioco normale. Ecco appunto, con tastiera e mouse non è la stessa cosa. La memoria muscolare dell'essere umano è davvero infame. Si sparano! No, 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 aspettatemi. Mi dispiace molto. Un colpo ed è morto! E che caspita. Dov'è l'altro? È lì. Ho fatto a mancarlo, scusa, col colpo di cecchino. Se posso chiedere, chiedo per un amico. Devo andare a prenderlo. No! Disgraziato, mi hai rubato la kill. E là? Pure. Qualcun'altro? Ma cosa vuole questo che mi sta tirando addosso i butterflies per darmi fuoco? Quanto sono diventato forte, ragazzi! Ma quanta gente c'è a Misty Meadows, posso chiedere? Cinque uccisioni, la prima partita del giorno. Fatemi respirare giusto un secondo. Non ho neanche cento di scudo, raga. Guardatemi, i materiali sono praticamente finiti. Prenderò un po' di danno alla tempesta, ma poco male, raga. Uh, vedete? È valsa la pena. Nel dubbio, visto che non sappiamo tra quanto rientreremo in zona sicura, ci mangiamo questo, questo e prendiamo il medikit. Vamonos! Vola Lamborghini, me ne vado dentro al rift. Si vola! Ho pochissima vita, raga. Un colpo di cecchino e potrei essere morto. Secondo me dobbiamo sfruttare anche questo rift che abbiamo qua a destra. E nel dubbio, guardate, tanto mi devo curare. Così recupero anche l'impulso, prendiamo il rift e andiamo a fare le ultime uccisioni della partita, raga. Vinciamo al primo tentativo oggi. È vero non siamo riusciti a potenziare il fucile a pompa, ma a quanto pare non ne abbiamo bisogno. Siamo fortissimi così. Ti prego, dammi una big pot. Ok, interessante, ma non mi serve. Abbiamo davvero pochi materiali ora che ci faccio caso. Questi materiali, secondo me, sono più che sufficienti. Andiamocene via. Dov'è che potrei rifocillarmi e trovare delle cure? Non c'è neanche un airdrop nei paraggi, ma che sfortuna. Però, se io ricordo bene, qua sotto ci sono un sacco di cose interessanti. Un altro rift per poi spostarci. Chi dice che non c'è mobilità adesso? Cosa pensa? Ehi là! È morto davanti agli occhi questo! Non mi ha dato neanche la kill! Questo non c'è da fare quella roba di Wolverine. Quella! No way! Quello col coso di Wolverine mi ha ucciso da dietro mentre laseravo l'altro. Non ci voglio credere. Ho un passo dalla zona sicura! Ho rovinato tutto! Mi ha completamente laserato! Considerando che atterriamo sempre negli stessi posti, oggi voglio fare un giro a Sweetie Sands. Secondo me non ci verrà nessuno! O comunque pochissima gente! Il mio atterraggio è davvero molto buono. Molto buono al punto di... Mannaggia! Sgraziato! I'm so sorry, man! Abbiamo rischiato parecchio, ma l'unico modo, raga, era pusharlo in quel momento. Datemi delle cure, vi supplico! Cerchiamo gli altri due che sono in città. Perché li ho visti e ho anche sentito sparare. Oh, oh! Mi sa tanto che uno è in macchina. Dammi sta kill! Oh mio Dio! Cosa pensavi di fare? Davvero credevi di uccidere Steffi in questo modo? Solo che non troviamo scudo! Devo vivere la mia vita un quarto di miglio alla volta così, con l'ansia che qualcuno mi uccida da un momento o all'altro con una stupidissima cecchinata. Ho visto bene o ho visto benissimo? Una Big Pot alla mia sinistra. Grandioso! Ma è fantastico, raga! Ma è fantastico! Due Big Pot addirittura. Dai, che sfiga, era uno scudino solo! Questo è veramente molto buono. Fucile a pompa blu, potrei trasformarlo addirittura in un pump epico. Che ne pensate? Ok. Ok, me ne vado. Aiuto ragazzi! No, 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 non voglio morire qua. Giuro. Sta arrivando qua. Via! Fermi tutti. Che qua ci sono delle cure. Via! Fuga, 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 fuga. Non ci credo che non ho trovato ancora un medikit, raga, giuro. Ma perché? Ma perché? Tutti su di me! Non ho trovato neanche una benda o un medikit in mezza città. Capisco che tu non possa farmi trovare sempre il lama, ma almeno una benda. Un cabolfiore, una banana, un cocco, niente. Ecco quanto poco tengo alla mia pellaccia. Stark Industries, ragazzi, è la P. Oh my god. Oh my god. Calmi. Adios. Non sto capendo. Niente. Ho ucciso uno, non so manco come. Oh, oh. Oh, cavolo. Oh! Questo è matto! Via! No! Io non esisto. Sono fuggito, non so come, raga. Sono vivo e voglio sopravvivere. Sotto di noi abbiamo uno spara band. Dobbiamo riuscire a recuperare... I don't wanna die. Sono fuggito, lo capisci? Non sono più qua. Sveglia! Me ne sono andato! Comandando con Iron Man. Via! Fidatevi di me. Fidatevi di Stephanie! Ci salviamo! Ci salviamo, raga. Oddio! Mi è schiantata la macchina! Stavo per morire! Ho tre di vita. Tre. Ma è bellissimo! Siamo vivi per sbaglio. Ho trovato anche le bende. Questo, ragazzi, è a tutti gli effetti quello che le persone conoscono come miracolo. Ripeto, sono vivo per sbaglio. Siamo vicino a zona sicura. Qua dietro, se non sbaglio, c'è un falò. Servono solo degli scudini e tanti materiali. Possiamo ancora farcela, ragazzi. Dobbiamo risalire la montagna. Io speravo di visitare prima un altro posto, tipo laggiù in fondo. C'è anche la cassa, probabilmente. Ma non ce la faccio, perché sta arrivando la tempesta e non voglio rischiare. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Siamo in zona sicura e siamo vivi, che è quello che conta di più in assoluto. Mancano 19 persone. Guarda qua, intanto. Funghi! Ad esempio, qua sarebbe figo un bel pesce per curarmi. Grazie. Grazie. A questo punto ce ne andremo in barca. Un altro fucile a cecchino. Ma io speravo di pescare un altro pesce. Via di qui. Non me ne intendo, ma è abbastanza alto, no? Ho finito tutti i colpi che avevo nel fucile d'assalto. Bella mossa del cavolo ste. Ottimo. Quello ha un lanciamissili? Quello ha un elicottero! Altro che un lanciamiss... What? Io non ho neanche le munizioni, ragazzi. Questi hanno l'elicottero. In che situazione siamo? Riftino! Chi l'avrebbe mai detto che saremo andati a Craigie Cliff a prendere un airdrop? Pazzesco. Pazzesco, ragazzi. Wow. Ma chi viene a Craigie Cliff? Il piano è questo. Ovviamente c'è un altro airdrop. Lo andremo a recuperare. Lo sta già facendo qualcuno. Questa è lanciamissili, ragazzi. Cosa? Finisce così. Non ci posso rendere. Sì? Still alive! Voglio in qualche modo portarla avanti il più possibile. Anche se le poche cose che abbiamo non ci aiutano. Eh sì, come no. Non ho più niente, raga. No, c'è le ganasce quest'auto. Sì, serio. What? No! Ma? Come, prego! Ti ho fatto cadere nel mio box. E tu non hai preso la trappola. E tu hai il potere di Iron Man in braccio. Cari amici, sono senza parole. Questo video di oggi termina qua ed è meglio così. Fidatevi. Non siamo riusciti a vincere. Peccato il fatto che qua non ci si possa curare uccidendo qualcuno non ha senso. Ma non importa ed è per questo che giocare no, ragazzi. Mi piace, mi piace, commentate, iscrivetevi al prossimo video. Ma ti rendi conto che questo vince la partita con il lanciamis? Ha pure perso! Ho 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 ho